Svolta sciocca nelle indagini sulla morte del 39enne papà albanese di asolo massacrato a coltellate nel bosco di Paderno. Individuato il presunto assassino è un minorenne di Pieve del Grappa, comunità sconvolta. Il 17enne si era trovato con Blader, forse per un incontro sessuale, poi la furia omicidia nella quale si è ferito è stato incastrato dalle tracce di sangue lasciate sul luogo del delitto. La sindaca di Pieve ha nientati dalla notizia. Scombinata dalla polizia a Pordenone, una banda specializzata in razzie di bici di lusso a Villorba avevano colpito due volte in un giorno il maxi store di Pinarello con un bottino di oltre 300 mila euro. Dopo la violenta lita e l'aggressione ad un cliente all'interno del PAM di via Zorzetto a Treviso, la nota di fuoco dell'azienda della grande distribuzione che attacca frontalmente il sindaco. E la rabbia del sindaco che risponde è pronto a portare i vertici di PAM in prefettura per discutere della questione critico verso il comunicato, farneticante e delirante. Stop al terzo mandato per i governatori, la reazione della Lega non si fa attendere. Il mercato attacca Fratelli d'Italia, il segretario regionale Stefani, nei territori locali non sempre si seguono le logiche nazionali. Pisate le date delle elezioni di secondo livello per le province, il 29 settembre al voto sindaci e consiglieri per rinnovare la guida dell'ente nella marca. Non svuotavano il bidone del secco da sei anni e covandali stangati, due famiglie smaltivano i rifiuti abbandonandoli in sacchi in via Tommaso salsa carbonera. Il business delle richieste di cittadinanza italiana vede roba l'anagrata e ha scoperto documenti falsi. A Cavaso del Tomba la popolazione conta quasi il 30% dei cittadini residenti all'estero. TGI Treviso, ben ritrovati. Buonasera, partiamo dal delitto del grappa con l'ammattanza del 39enne albanese Blejar Dedi. Ebbene c'è una svolta shock perché per quella morte è stato fermato un minorenne del posto. Una notizia definita annientante dal sindaco, Annalisa Rampin, ad incastrarlo le tracce del DNA. Vediamo. Dopo un mese di indagini serrate, il presunto killer di Blejar Dedi ha un volto, quello di un minorenne italiano di buona famiglia, 17 anni nemmeno. I due si erano dati appuntamento nel pomeriggio del 20 gennaio, un sabato, forse per un incontro di natura sessuale. Poi la situazione è evidentemente precipitata fino alla mattanza e a quelle dieci coltellate inferte sul corpo del 39enne albanese, sposato e padre di due figli. Questa la svolta clamorosa quanto scioccante che gli stessi inquirenti stanno trattando con il massimo riservo, coordinati dalla procura dei minori di Venezia. A incastrare il teenager, alcune testimonianze, le tracce del DNA prelevate dagli uomini del RIS di Parma nei giorni seguenti, il ritrovamento del cadavere, all'alba di domenica 21 gennaio, in una zona isolata in via dei Cogli a Paderno. Bledar era a terra, in un bagno di sangue, i pantaloni abbassati, una scena del crimine che fin dall'inizio aveva fatto propendere per la pista passionale, con i carabinieri che non hanno lasciato nulla d'intentato. Indizio dopo indizio si è ricostruito come il diciassettenne se fosse ferito alla mano nel corso dell'aggressione, disfandosi poi sia dell'arma del delitto, un coltello da cucina, sia di alcuni capi di abbigliamento. Non solo, il ragazzo, prima di dileguarsi a piedi, avrebbe anche tentato di far scomparire le chiavi dell'auto di Bledar, trovata dai carabinieri con le porte regolarmente chiuse. Si tratta ora di capire che relazione ci fosse tra il 39enne e il diciassettenne, 22 anni di differenza, se già si frequentassero, la vittima abitava ad Asolo, il ragazzino sarebbe di Pieve del Grappa. Bledar poi lavorava in un noto locale di Borso, non si esclude possano essersi conosciuti lì. A questo punto occorre anche appurare se ci sia stato un approccio di tipo sessuale, se per caso in ballo ci fosse un compenso di natura economica. Al setaccio ci sono le chat frequentate dall'uomo, in quella che appare sempre di più come una doppia vita, interrogativi aperti, così come per l'eventuale coinvolgimento di altre persone, la stessa sindaca è sconvolta. Davvero è annientante pensare a un ragazzo così giovane che compie un gesto così violento. Resta tanta tristezza e davvero tanta inquietudine perché ci tocca a tutti un fatto del genere. Ci aveva toccato la morte di Deier sicuramente, il fatto che sia un ragazzo così giovane coinvolto in questo gesto così estremo, ancora di più ci tocca. La notizia del fermo del diciassettenne è piombata nel pomeriggio a Pieve del Grappa. Non avremo mai immaginato una cosa del genere, le voci che abbiamo raccolto. Si pensava fossero adulti, sì, almeno io mi immaginavo quando mi sono un attimo informato della notizia, pensavo fosse una cosa che è venuta fuori tra dei tradimenti e delle cose per ripagare i conti, tutto qua. Spiace, spiace sentire questa cosa di qualsiasi età, ma ancora di più sapendo che è un giovane. Grande tristezza per queste cose. La notizia del fermo di un diciassettenne del posto piomba su Pieve del Grappa a metà pomeriggio, a un mese esatto dal ritrovamento del cadavere di Bleder in un bosco di Paderno. Lo shock è evidente anche tra i più giovani, nessuno immaginava un epilogo di questa portata. Penso che ultimamente per via di giovani sta succedendo una tragedia dentro l'altra e che sia colpa loro comunque sia loro a subire, i giovani in questa zona ultimamente stanno facendo di tutto. Quindi c'è un problema di disagio giovani? Secondo me sì, in questi anni più di prima. Non me l'aspettavo comunque che fosse un minorenne. Sono cose che non dovrebbero succedere, purtroppo secondo me c'è un po' di decadimento di valori che siamo arrivati a questo punto qua. E c'è un problema tra i giovani? C'è un problema, certamente che c'è un problema tra i giovani. Siamo a Preganzialo, ora ha sequestrato la moglie per una notte, ricorderete, minacciandola con la pistola. Domani mattina ci sarà l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Santa Bona. Dopo l'ennesima lite le aveva mostrato la pistola, se te ne vai ti uccido. La donna a 58 anni terrorizzata aveva contattato la figlia. Non era la prima volta che due coniugi litigavano, tanto che lei aveva deciso di lasciarlo. Ed è per questo motivo che l'uomo ha messo in atto quello che si è trasformato in un vero e proprio sequestro di persona. Domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Treviso, dove è stato portato dopo l'arresto. L'uomo, operaio 55enne ex militare, è accusato di sequestro di persona aggravata dal vincolo di parentela e maltrattamenti in famiglia. Per una notte intera ha tenuto la donna ferma, chiusa in casa, non poteva uscire, le aveva strappato le chiavi dell'abitazione. Ora il pubblico ministero, Giulio Caprarora, potrebbe chiedere la custodia cautelare in carcere oppure gli arresti domiciliari nella casa del padre con braccialetto elettronico. Una valutazione che dovranno fare gli inquirenti, decisione che prenderà poi il giudice per le indagini preliminari. In queste ore il legale dell'uomo, l'avvocato Luigi Fadalti, è andato in carcere per parlare con il suo assistito, il quale avrebbe raccontato la sua verità. Il 58enne aveva in casa sette armi, tra pistole e fucili, tutte per uso sportivo e caccia. Dopo l'arresto avvenuto con un blizze fulminio da parte degli uomini dei reparti speciali dei carabinieri, le armi sono state sequestrate. La coppia era sposata da una decina d'anni, ma nell'ultimo periodo, soprattutto, le cose non andavano bene. I vicini parlano di litigi anche violenti. L'altra sera la discussione è degenerata. L'uomo ha tirato fuori una delle sue pistole terrorizzando la moglie. Per una notte intera i carabinieri con un negoziatore hanno parlato attraverso piccoli messaggi con la donna per tranquillizzarla, per tenerla calma, fino alla mattina quando è stata tratta in salvo. Per il marito si sono aperte le porte del carcere. La razzia di bici alla Pinarello lo scorso novembre. La banda è stata presa. Gli agenti della questura di Pordenone hanno arrestato quattro uomini. Eccoli pancia a terra mentre a passo del leopardo strisciano nel piazzale della Pinarello in Viale della Repubblica a Villorba. È lo scorso 22 novembre quando i predoni mettono a segno un furto clamoroso. Nel giro di poche ore hanno svaliggiato per ben due volte la storica azienda rubando biciclette da corsa per oltre 300 mila euro. Dopo tre mesi di indagini gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone hanno arrestato quattro rumeni accusati dell'assalto trevigiano e di altri due colpi. Uno alla mania green di Viale Treviso a Pordenone, l'altro alla società ferramenta di Salabaganza in provincia di Parma. Tre furti nell'arco di sette giorni, stesso modus operandi, ingente. Il bottino, oltre alle bici Pinarello, sono state rubate a Pordenone 60 motoseghe e due gruppi elettrogeni per complessivi 50 mila euro. Nel parmense ancora diverse motoseghe e materiale da giardinaggio per 28 mila euro. Per fuggire sia a Parma che a Pordenone la banda ha utilizzato dei furgoni rubati in loco. I quattro agivano molto rapidamente con un'organizzazione militare. Un'osservazione da ex ufficiale dell'esercito che ho fatto perché nelle immagini, come avrete avuto modo di constatare, viene adottato il cosiddetto passo del leopardo che è uno stile tipicamente, una mossa o un atteggiamento tipicamente militare per eludere quelle che sono le telecamere e per soprattutto cercare di non destare sospetti al nemico. Le indagini hanno portato i poliziotti ad individuare la banda di trasfertisti che dalla Romania giungeva in Italia per mettere a segno furti di costose bici e materiali da giardinaggio. Concluse le scorrerie, in genere i colpi venivano messi a segno nell'arco di una decina di giorni, i quattro rientravano in patria. Fenomeno quello dei trasfertisti frequente nel nord-est, ma non solo. I giorgiani sono notoriamente esperti nei furti in appartamento, i rumeni sono esperti, come nella circostanza, in furti nelle attività commerciali, in particolar modo quelle di squisitamente tecniche oppure di biciclette particolari o anche di attrezzi di lavoro, come nella nostra indagine. E poi magari altre etnie si occupano di spaccio di sostanze stupefacenti. I quattro sono stati rintracciati ed arrestati in una struttura ricettiva di Verona, dove alloggiavano, ma avevano anche preso in affitto un appartamento nel quale sono state rinvenute sei costosissime mountain bike, seghe elettriche ed altro materiale verosimilmente rubati nei giorni scorsi. Siamo al PAM, ma torniamo in città. Dopo la violenta lite e l'aggressione ad un cliente all'interno dell'esercizio commerciale, arriva una nota di fuoco dell'azienda della grande distribuzione che attacca frontamente il sindaco di Treviso Mario Conte, in situazione intollerabile, si legge, il sindaco si assuma le sue responsabilità. Ieri il vigilante sarmato a presidiare l'ingresso e l'area delle casse. Oggi la nota di fuoco del PAM dopo l'ennesima violenza avvenuta nel supermercato di via Zorzetto a Treviso. L'azienda, esprimendo solidarietà al cliente aggredito e preoccupazione per il degrado del quartiere, si scaglia senza mezzi termini contro il comune. Un degrado che mette in pericolo la sicurezza dei collaboratori, clienti e residenti. Questo non può più essere tollerato, si legge nella nota. Il PAM si rivolge quindi con un appello direttamente al sindaco affinché si assuma la responsabilità in caso di futuri e ancora più gravi atti di violenza. ed ancora chiede cosa intenda fare per affrontare questa inaccettabile escalation. Rimarcando l'impegno e la collaborazione con le autorità nell'investire nella sicurezza della zona limitrofa al punto vendita di via Zorzetto, il colosso della grande distribuzione conclude la nota con una frase al vetriolo. PAM non può e non vuole accettare ulteriori compromessi, però le pesanti come Macigni che non potranno non avere conseguenze nei rapporti con l'amministrazione comunale su un tema di scottante attualità come quello della sicurezza in una delle aree più calde di Treviso. Parole farneticanti e deliranti, la risposta immediata del sindaco Mario Conte pronto a portare i vertici PAM in prefettura per discutere della questione. Porterò i responsabili del PAM in prefettura per condividere delle strategie che possono garantire la sicurezza dei dipendenti e anche dei clienti. Dopo rispingo tutta una serie di accuse che sono fatte in questo comunicato che, ripeto, mi lascia anche con la mare in bocca perché la collaborazione col PAM è totale e invece questo comunicato ma nella direzione opposta. Il caso PAM Panorama finisce in prefettura. Della nota stampa della catena di supermercati sono state emesse al corrente immediatamente anche le forze dell'ordine e sarà proprio davanti a prefetto e questore che la situazione del quadrante Piazza Borsa sarà discussa, lo promette il primo cittadino. Mario Conte non ci sta ad essere ritenuto responsabile della situazione né a sentir parlare di degrado, ma non gioca nemmeno in difesa. Io ho letto tutta una serie di dichiarazioni deliranti e farneticanti. Un comunicato scritto, secondo Mario Conte, solo per fare polemica a fronte di una preoccupazione che è comune, chiarisce e respingo le accuse. Stiamo investendo sulla sicurezza quanto il PAM. Quel comunicato forse è stato scritto da qualcuno che non conosce la realtà cittadina, è distante dalla realtà, però evidenzia una preoccupazione che io rispetto e voglio accompagnare verso la soluzione, però coinvolgendo le persone che sono responsabili della sicurezza. L'opposizione intanto incalza l'episodio di violenza. Il supermercato è solo l'ultimo di una lunga serie di fatti gravi, apici di un dilagante fenomeno di disagio sociale, direi civico. Dice Carlotta Bazza, bisogna agire. Bisogna pensare a una riqualificazione totale della piazza di Via Zorzetto e dei giardinetti di Sant'Andrea. I residenti, ma non solo, anche le lavoratrici, i lavoratori e i passanti stanno vivendo una situazione di paura. Una gara tra architetti di paesaggio trevigiani per la riqualificazione dei giardinetti Sant'Andrea, stile Madrid, oppure eventi infrasettimanali in piazza. La Filcamps CGL, vicina ai lavoratori intanto, chiede un incontro al sindaco. Mi auguro vivamente che il sindaco risponda quanto prima e che ci sia questo incontro. Siamo alla politica dopo la bocciatura in Commissione Affari Costituzionali della proposta di un terzo mandato. Arrivano le reazioni della Lega Veneta. L'assessore Roberto Marcato suona la carica con attacco a Fratelli d'Italia. E forza Italia. Noi candideremo un candidato leghista, una donna o un uomo. E se la coalizione vorrà far parte di questa nuova e affascinata avventura, bene. Altrimenti noi siamo prontissimi ad andare da soli con una lista Lega, una lista Zaia, una lista autonomista e chi ci sta per il buon governo dei Veneti. L'attacco è diretto agli alleati di Fratelli d'Italia, mai come ora. Così lontani non usa mezze misure l'assessore regionale e storico esponente leghista Roberto Marcato all'indomani della bocciatura in Commissione Affari Costituzionali dell'emendamento che avrebbe concesso ai governatori delle regioni di candidarsi per un terzo mandato. Per il sottosegretario Massimo Bitonci sono i cittadini a dover scegliere i propri amministratori. È anche vero che decide la gente poi se il sindaco o il governatore ha ben operato oppure no. Quindi non si toglie la possibilità, anzi è un ampliamento della democrazia. Quindi ho trovato assolutamente fuori luogo il fatto che si è voluto spostare magari ad altri provvedimenti o dire cominciamo a ragionare su un provvedimento complessivo. Io penso, come dice Luca Zaia, che la partita non sia assolutamente chiusa. Per il segretario regionale del Carroccio, l'onorevole Alberto Stefani, le elezioni regionali non seguono le dinamiche spesso lideristiche delle votazioni nazionali. La Lega ha una forza sul territorio molto importante che somma alla forza del partito anche tanti amministratori, tante liste civiche territoriali, tanti gruppi che sul territorio hanno il loro consenso e l'hanno dimostrato anche alle ultime regionali. Il consenso che c'è alle elezioni politiche non è lo stesso che c'è alle elezioni territoriali. Ovviamente noi faremo il nostro meglio, ma la nostra collocazione è al centro-destra e su questo lavoriamo. Il diretto interessato, il presidente Luca Zaia, sottolinea come chi sia chiamato a decidere per il terzo mandato, i parlamentari, non siano allo stesso tempo eletti direttamente e nemmeno soggetti a vincoli di mandato. Ho ancora quest'anno e mezzo, due anni, non si è ben capito se ci sarà una proroga oltretutto. Nel frattempo cerchiamo di capire, siccome qualcuno ha detto che il Parlamento è sovrano, vedremo quanto ha sovranità saprà esprimere il Parlamento. Ma soprattutto è una sovranità che io immagino dovrà essere rispettosa della volontà popolare. Trovo strano che ci siano persone che votano COND a favore del blocco di mandati di sindaci e presidenti di regione che sono eletti direttamente dal popolo e poi va a vedere il curriculum di alcune persone da 4-5 legislature che sono in Parlamento. Emendamento che apriva il terzo mandato invece per i sindaci, i primi cittadini dei comuni con più di 15.000 abitanti, è stato ritirato dalla Lega stessa prima del voto. Tra i più ammareggiati c'è Stefano Marconde, sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso che avrebbe puntato al terzo mandato. Da sindaco le dico che si prova un senso di dimortificazione anche perché limitare i mandati al numero degli abitanti secondo me è un limite che bisogna togliere anche perché appunto riguarda esclusivamente i sindaci e i presidenti di regione. E sfuma anche per Stefano Marconde la possibilità di ricandidarsi alla guida della sua Castelfranco. Lo dice a margine dell'intervista, ammette il sindaco leghista che l'idea lo aveva già sfiorato. Quella di tentare un nuovo mandato da ieri sfumata con il ritiro ancora prima della votazione da parte del suo stesso partito dell'emendamento sul terzo mandato per i primi cittadini. Ritiro in extremis probabilmente motivato dall'esigenza di spingere almeno per la corsa dei governatori uscenti. I cittadini sanno scegliere, dare a loro la possibilità di esprimere i propri rappresentanti io credo sia la massima espressione di democrazia. Rimanda ai segretari di partito l'analisi politica della bocciatura a Roma dell'emendamento affossato anche dagli alleati Marcon ma non nasconde una certa amarezza e non manca di ribadire come ogni alleanza abbia le sue regole. Noi siamo leali con i nostri alleati nella misura in cui abbiamo sempre trovato lealtà e continueremo ad esserlo. Sono sempre convinto che a tutti i livelli il format di centrodestra paghi specialmente in territori come i nostri. E da sindaco Stefano Marcon viene chiamato in causa dai concittadini che usano la bicicletta e si sentono poco sicuri lungo le strade di Castelfranco appassionati dei pedali che gli chiedono conto di fondi stanziati ma finora non ancora utilizzati. Nel 2022, fine 2022, sono stati approvati 100.000 euro in bilancio per la manutenzione delle ciclabili nel territorio comunale di Castelfranco e nel 2023 non abbiamo visto spendere questi soldi da parte del comune e chiediamo dove sono. E' questa la domanda che la sezione castellana della Federazione Italiana Amanti della Bicicletta fa da tempo al sindaco Marcon senza però al momento ottenere risposta. Che invece servirebbe quanto prima, almeno stando a quanto segnalano diverse associazioni del territorio che oggi si sono ritrovate nel centro culturale di Campigo. Una scelta non casuale, visto che qui la viabilità per chi pedala risulta, secondo i cittadini, oltre che stravolta, decisamente poco sicura. Perché il cantiere del sottopasso ha chiuso tutte le strade preferite da ciclisti e pedoni per raggiungere da Campigo o Resana al centro di Castelfranco. Cantiere per eliminare uno dei tanti passaggi a livello e collegare la zona sud con la stazione ferroviaria per un sottopasso già predisposto anche per i ciclisti, non così per le strade relative. Non c'è nessuna previsione su un progetto che colleghi questo sottopasso fatto da Ferrovie con l'attuale pista ciclabile che viene da Campigo e con il resto delle strade che vanno verso Castelfranco. Quindi il problema è proprio questo, cioè si arriverà alla fine dei lavori dell'RFI senza sapere cosa fare. In ballo, sottolineano le associazioni, c'è la sicurezza sulle strade. La prevenzione proprio non è in città nella testa dei nostri amministratori. Purtroppo non ci sono alternative, non vengono prese in considerazione nemmeno per esempio l'importanza dei mezzi pubblici che non ci sono in alternativa. Per cui appunto uno deve fidarsi di prendere anche la bicicletta, ma a suo rischio è pericolo. Poi se pensiamo che la scorsa settimana e in questo momento Castelfranco è una delle città più inquinate del Veneto se non d'Europa, dovrebbe essere un'urgenza permettere alle persone di lasciare a casa la macchina e muoversi a piedi o in bicicletta. Questa sì che è un'urgenza, più che mangiare e bere. E che a Castelfranco siano seriamente preoccupati lo ricorda questo albero piantato lungo via Sile di notte dallo stesso Mazon per poi essere tagliato per dare visibilità a questo cartello stradale. Se uno toglie un albero per piantare un albero di ferro, lascio a voi la risposta, non la voglio dare io. È stato approvato ieri dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato l'emendamento dell'Unione Provincia Italiana e il dia alle elezioni che fissa dal 29 di settembre l'Election Day di secondo livello per il rinnovo dei consigli per 41 province d'Italia. Per il Veneto sono chiamati a votare quel giorno i sindaci delle province di Treviso, Rovigo e Vicenza che si esprimeranno per l'elezione dei nuovi consiglieri provinciali. è confermata invece, come già precedentemente comunicato, la data del 16 di marzo per le elezioni di secondo livello nelle province di Belluno, Padova e Verona chiamati a rinnovare i propri consigli provinciali entro i 90 giorni successivi alla data del 18 novembre 2023. Sono stati concessi gli arresti domiciliari a Wolfgang Riedtke, il camionista tedesco di 63 anni che il 30 novembre 2022 travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellino. La decisione dei giudici del Tribunale di Vicenza è stata notificata nella giornata di oggi e arriva a pochi giorni dalla prima udienza in cui la Procura ha dato il suo assenso per un patteggiamento a tre anni e 11 mesi per i reati di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Riedtke uscirà quindi dal carcere di Vicenza dove è rinchiuso dal 25 agosto del 2023 con il braccialetto elettronico e rimarrà in Italia precisamente in un appartamento del Trevigiano dove sarà ospitato da amici. La difesa con gli avvocati Andrea Nardine ed Enrico Ambrosetti ha espresso soddisfazione per la decisione che accoglie quanto chiesto nel corso dell'udienza. L'11 di marzo sarà invece sciolta la riserva sul patteggiamento da parte del Tribunale Berico. Ecco Vandali e Carbonera, non svuotano il bidone del secco pensate da sei anni, sono stati stangati. Non svuotavano i bidoni del secco per lunghissimi periodi, in un caso addirittura sei anni. Eccoli immortalati dalle telecamere mentre scaricano abusivamente sacchi di rifiuti nei pressi dell'ecocentro. Sono stati individuati gli ecovandali di Carbonera che da tempo abbandonavano le immondizie in via Tommaso Salsa. Attraverso un'indagine congiunta della Vigilanza Ambientale del Consorzio Priula e della Polizia Locale di Carbonera si è arrivati ad identificare gli autori degli abbandoni. Si tratta di due famiglie, una di cinque persone e l'altra di un solo componente, domiciliate entrambe nei pressi dell'ecocentro. Pur essendo in possesso dei bidoni per la raccolta differenziata, le famiglie li utilizzavano sporadicamente. In un caso il contenitore per il rifiuto secco non risultava svuotato da ben sei anni. Ora, oltre al pagamento della tariffa, dovranno anche sostenere i costi di pulizia e ripristino delle aree dove avevano abbandonato i rifiuti. Una zona tra l'altro da tempo oggetto di accertamenti per prevenire situazioni di degrado e che nel tempo ha permesso di individuare i responsabili di altri illeciti e derogare sanzioni sia ad attività commerciali che non smaltivano correttamente i rifiuti, sia a privati responsabili di abbandoni. Blitz del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Treviso in diversi esercizi pubblici della marca. Tra bar e ristoranti, 16 le aziende sanzionate per complessivi 140 mila euro. Sono state sospese tre attività per aver impiegato lavoratori in nero e per gravi inadempienze in materia di sicurezza. Nel corso di un controllo, ad esempio in un ristorante etnico di Vittorio Veneto, sono stati trovati due cittadini di origine cinese in nero. L'attività imprenditoriale è stata sospesa. Come sospesa, l'attività di un bar di Mansuè, dove è stata individuata una lavoratrice sempre di origine cinese in nero. Poi siamo a Farra di Soligo, documentata la totale assenza del documento di valutazione dei rischi, fondamentale per la tutela della sicurezza dei lavoratori all'interno di un bar. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, poi ancora tutte le notizie dalla marca. TG di Treviso, ben ritrovati. Ripartiamo dall'ospedale Caffonciallo di Treviso per raccontarvi dello stato di agitazione dei lavoratori in programma per le prossime settimane l'Assemblea per decidere. Questo emerge a seguito dell'incontro tenuto oggi tra le organizzazioni sindacali del comparto e la dirigenza ospedaliera dell'Ulss2 marca trevigiana. Un incontro che, a detta della funzione pubblica, CGL non ha adatto a alcun tipo di risposta organizzativa alle difficoltà che il personale, in particolare quello inserito nella cittadella della salute, sta vivendo e subendo. Il carico di lavoro denuncia il sindacato è aumentato a dismisura, ma non è aumentato il numero dei lavoratori e delle lavoratrici occupati nei reparti. Non sono più sufficienti, dice la CGL. Mere rassicurazioni di un prossimo arrivo di persone, anche alla luce di pensionamenti che sono in programma. Siamo al business delle richieste di cittadinanza italiana. Andiamo a Pederoba, Cavaso del Tomba, e poi ne parliamo con Franco Conte, presidente dei Trevisani nel mondo. Molti si presentano all'anagrafe del mio comune presentando dei documenti che, alle volte, purtroppo, non sono veritieri. Sta ai nostri uffici essere attenti a ciò che viene presentato perché le domande sono a centinaia. A Cade e a Pederoba si presentano con documenti falsi agli uffici dell'anagrafe per chiedere la cittadinanza italiana. Vengono da Brasile o Argentina, cercano un aggancio con parenti lontani, residenti ancora nella marca, per ottenere il documento. Un lascia passare per gli Stati Uniti, ad esempio, un passaporto europeo. A Cavaso del Tomba il fenomeno è talmente diffuso che almeno il 30% della popolazione lo assicura il sindaco Gino Rugolo alla doppia cittadinanza, con un valore di crescita esponenziale. Anche gli uffici del capoluogo uberati di lavoro per smaltire le richieste. Un fenomeno che anche il presidente dei Trevisani nel mondo, Franco Conte, conferma. Loro hanno un'agevolazione, tra virgolette, che è quella di avere un passaporto europeo. Col passaporto europeo si viaggia in maniera molto più libera in tutto il mondo. In Sud America, in modo particolare in Brasile, è nata una nuova professione, che è quella dei genealogisti. Cioè persone specializzate nel recuperare gli alberi genealogici dei dissendenti di italiani. È effettivamente un business. Il boom delle richieste dopo il Covid con cittadinanza italiana si ottiene anche il diritto di voto alle politiche. In aperta polemica con la normativa alcuni primi cittadini, mentre in Parlamento stanno prendendo forma iniziative parlamentari per garantire agli oriundi in visita ai parenti in Italia anche l'assistenza sanitaria. Regalare la cittadinanza a chiunque è un'esagerazione. Dobbiamo essere fermi su quelle che sono le leggi, queste sono le regole e soprattutto quella che è la nostra identità. Uno sguardo al meteo perché nelle prossime ore è prevista la fase finale della perturbazione in atto con precipitazioni inizialmente ancora diffuse a tratti moderati e forti, specie nelle zone orientali. Nevica sulle Dolomiti fino ai 900 e 1000 metri, intorno ai 1300 e 1400 metri sulle prealpi. Alla luce delle previsioni emesse dall'ARPAV, il centro funzionale decentrato della protezione civile della regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione, siamo in allerta gialla, per criticità idrogeologica fino a domani alle ore 20 per i bacini di Piava e Pedemontano, Alto, Brenta, Bacchiglione, Alpone. Ed è stata dichiarata invece allerta gialla per criticità idraulica, nei bacini di Alto, Brenta, Bacchiglione, Basso, Brenta, Bacchiglione, Livenza, Lemene e Tagliamento. E allora come sempre, come ogni venerdì, andiamo a vedere le previsioni del tempo per il weekend. Nelle ultime ore c'è stato un forte calo della pressione, ora siamo sottoposti a un campo depressionario, di questo ne approfitta, ne ha approfittato subito un flusso di aria umida di origine atlantica, vediamo dalla carta del tempo, ecco in Sena questo flusso che perdurerà per diversi giorni, si formeranno linee di instabilità, ecco dei sistemi perturbati che a carattere più o meno intermittente interesseranno le nostre zone, quindi presto detto 8-10 giorni di variabilità, spesso variabilità perturbata. Però abbiamo proprio un intervallo in questi due giorni di fine settimana dopo le piogge abbondanti di oggi, piogge che sono trasformate in neve già a 1200-1300 metri, prossima settimana sono previste altre nevicate in montagna, a quote più basse, già 800-1000 metri. Comunque dicevamo sulle nostre zone, per questa sera netto miglioramento, poi per domani ancora una nuvolosità compatta, piuttosto intensa, però non dovrebbero esserci fenomeni, in serata forse un peggioramento. Per domenica l'intervallo continua, intervallo di tempo migliore, e quindi abbiamo anche dei rasserenamenti durante la giornata. Dureranno però per domenica in parte, perché già dalla serata poi avremo un peggioramento, cominceranno a passare, come dicevamo, delle linee di stabilità che perturberanno e soprattutto renderanno variabile il tempo per tutta la prossima settimana. Intanto i venti sono deboli di azione variabile per le prossime 48 ore, le temperature sono calate, però si mantengono leggermente al di sopra della norma, le minime dagli 8 ai 9 gradi, 10 gradi pure localmente, le massime dai 12-13 fino ai 15-16 gradi. L'alta triatico per ora è mosso, molto mosso, ma anche lo stato del mare sarà piuttosto variabile nel corso della settimana. È tutto. Siamo allo sport con il rugby, domani a Monigo il Benetton affronta gli Warriors di Glasgow in una gara cruciale per ritrovare lo smalto d'inizio campionato dopo la battosta contro il Leicester. Vediamo. Glasgow è una squadra molto forte a cui piace gestire il possesso, ma credo che ora dobbiamo concentrarci su di noi, su cosa possiamo fare meglio. Ripartire dalla squadra per evitare il tracollo che nell'ultima gara contro il Leicester è costato un primo posto storico in campionato. I giorni di allenamento e di riflessione alla Griada sono finiti, ora tocca agli uomini di Bortolami davanti ai tifosi di Monigo dimostrare che l'appannamento di Dublino è stato momentaneo. Abbiamo subito la loro pressione, abbiamo dovuto lottare per il gioco al piede, ci siamo concentrati sulle aree sbagliate del campo. A Glasgow all'andata fu vittoria per gli scozzesi, da qui in avanti sbagliato a cedere perché lo United Rugby Championship entra nel vivo. Tutte le gare saranno sempre più difficili perché tutte le squadre stanno crescendo, quindi dobbiamo mantenere alto il livello come inizio stagione. Belluno e provincia. E allora partiamo dalle Olimpiadi 2026 con la dichiarazione del CIO di questa mattina a Venezia. Se la pista da Bob non sarà pronta per marzo 2025, le gare si svolgeranno all'estero, così questa mattina a Venezia, i vertici del Comitato Olimpico Internazionale della Fondazione Milano Cortina al termine della tre giorni di sopralluoghi tecnici sui luoghi sedi di gara. Tempi strettissimi, scadenze inderogabili perché la sicurezza degli atleti viene prima di ogni cosa. Sullo sliding center di Cortina, probabilmente l'unica opera pubblica prevista nel masterplan dei giochi olimpici invernali 2026, la deadline è fissata a marzo 2025 per la pre-omologazione della pista e considerate almeno 20 giorni di tempo per il raffreddamento del budello, i lavori dovranno concludersi tra un anno esatto. CIO e Fondazione Milano Cortina 2026 questa mattina a Venezia hanno illustrato gli esiti positivi della tre giorni di sopralluoghi tecnici in Veneto. Tuttavia i termini sono stati inequivocabili. Le nostre preoccupazioni sulla realizzazione dello sliding center entro i tempi richiesti e sulla fattibilità sono note e sono state ribadite. Allo stesso tempo si è preso atto della nostra richiesta di mettere a punto un piano B. C'era, come sapete, anche un piano B italiano che aveva, se noi ritenavamo comunque, possibile, potenzialmente, ma nel momento in cui si è deciso di procedere con la pista di Cortina, visti i tempi che comunque erano necessari per sistemare la pista di Cesana, riteniamo che a questo punto un piano B eventuale non possa che inevitabilmente seguire le istruzioni del CIO di una pista esistente e operante e di conseguenza deve essere per forza all'estero. Su marzo 2025 perciò nessun compromesso lo hanno stabilito le federazioni internazionali e sulle loro richieste è impossibile transigere. La pista da Bob è stata una cosa complicata e qui imploriamo che le cose vengano rispettate giorno dopo giorno, non a livello di mesi, perché i tempi sono serratissimi. Se la pista non potrà essere utilizzata per i giochi 2026, la fiducia del CIO viene riposta sulla legacy, sull'eredità dell'impianto che avrà un futuro assicurato. Questa sede avrà un futuro e ci sarà un piano dettagliato che verrà presentato per la legacy. Questo è molto importante. Al piano sta lavorando la Regione Veneto e la sua versione finale sarà pronta a stretto giro. È una pista iconica, è una pista che si potrà candidare a molti eventi, penso alle Olimpiadi Invernali Giovanili del 2028, a campionati del Coppe del Mondo, a mondiali. È una pista che comunque sarà oggetto di visita da parte di tutti gli atleti del mondo. È una pista che noi vogliamo vedere nella legacy e quindi nell'eredità, in quello che sarà il suo futuro, anche in un utilizzo non solo invernale ma anche estivo. La tre giorni del CIO nello scenario bucolico del Veneto segna un passo importante verso il traguardo olimpico. Chiosa Giovanni Malagò, non ci saranno altri master plan, monitoreremo il lavoro di Simico, noi siamo spettatori interessati. Certo che anche per lo sliding center il miracolo potrà essere servito. Dovessi scommettere sì, sono sempre stato un sostenitore che noi avevamo e abbiamo un piano B, però penso di sì. L'Olimpici Invernali 2026, associazioni ambientaliste e comitati si sono ritrovati sotto a Palazzo della Regione per contestare la costruzione della pista da Bob. Nonostante la pioggia e il vento, un centinaio di manifestanti si sono radunati sotto il Palazzo della Regione, vicino alla stazione ferroviaria di Venezia, per protestare contro l'organizzazione dei giochi olimpici invernali del 2026. I manifestanti hanno espresso preoccupazione riguardo all'impatto ambientale e agli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione della pista da Bob necessaria per ospitare l'evento sportivo. Sono qui con altri miei amici, i ampezzani, siamo venuti a far vedere che ci siamo, che rappresentiamo quella parte di popolazione che da noi questa pista non la vuole. Noi da anni che perdiamo servizi, abbiamo un sistema stradale terribile, non abbiamo neanche un ospedale, le scuole stanno chiudendo una alla volta e la risposta dello Stato e della Regione è fare una pista da Bob per milioni di euro che poi verrà a costare più di un milione di euro, adesso si parla di un milione e quattro, però naturalmente bisogna vedere poi quanto in più costerà effettivamente a carico del nostro comune. Io credo che questa pista di Bob sia proprio un inganno alla popolazione perché non porterà assolutamente nulla, sarà solo un danno ambientale e un danno economico enorme. Sono qua per Exinction Rebellion, che è un movimento che si occupa di crisi climatica, proprio perché apparentemente la crisi climatica potrebbe sembrare qualcosa di molto astratto, ma in realtà passa proprio attraverso questo tipo di politica e queste grandi opere. Un sacco di soldi pubblici per delle opere che non servono assolutamente al territorio e vogliamo che questi soldi vengano invece investiti in altro perché la pista da Bob c'è, c'è a Innsbruck. È tutto veramente folle, c'è Innsbruck a due passi, è venuto il sindaco di Innsbruck, è venuto apposta a Cortina a dire potete usarlo tranquillamente, non dovete pagare niente, lo stiamo mettendo a posto noi perché ci serve, ma insomma veramente non si capisce da che parte sta lo Stato italiano, il Comune di Cortina e la Regione. Da che parte stanno? Dalla parte di chi deve speculare? Non dalla parte di chi difende anche le nostre tasche oltre che l'ambiente. È stata una giornata di passione, quella di oggi sulle strade del Bellunese, per l'improvviso quanto previsto colpo di coda dell'inverno che da questa mattina sta scaricando abbondanti e nevicate al di sopra dei mille metri di quota. Disagi sulle strade, sono quasi 100 gli interventi dei vigili del fuoco registrati. Qui un mezzo della Dolomiti bus uscito di strada su un tornante del passo Giau, che è stato chiuso al traffico insieme al passo Valparola, tra passo Falzarego e il confine con la provincia di Bolzano. Transito obbligatorio con catene montate sulla regionale 48 delle Dolomiti verso il passo Falzarego. Ed è polemica per la totale assenza di dotazioni invernali riscontrate su tir e auto che in difficoltà sui tratti in salita hanno letteralmente mandato in tilt il traffico sulla 51 di Alemagna e sulla 51 bis verso Calalzo. Nel resto della provincia è stata la pioggia incessante a causare problemi con allagamenti diffusi segnalati specie nel Feltrino. A Belluno le fiamme gialle del comando provinciale hanno sequestrato quasi 700 prodotti elettronici non conformi agli standard di sicurezza. Il valore commerciale sfiora i 17 mila euro. Cuffie, auricolari wireless, bluetooth e cablati, tutti irregolari, cioè privi delle indicazioni minime che debbono essere riportate sui prodotti o le confezioni destinate al consumatore e commercializzate sul territorio nazionale. Blitz della Guardia di Finanza di Belluno in un negozio del capoluogo dopo sopralluoghi mirati e segnalazioni ad hoc giunte al comando provinciale di Via Mezzaterra. I finanziari hanno sequestrato 672 prodotti non conformi agli standard di sicurezza per un controvalore di circa 17 mila euro. Ma, contrariamente alle aspettative, ad essere segnalato alla Camera di Commercio è stato il titolare del negozio di nazionalità italiana che ora rischia una sanzione che potrebbe arrivare fino a un massimo di 26 mila euro circa. La condotta contestata dalle fiamme gialle si riferisce all'obbligo previsto dal Codice del Consumo di riportare sul prodotto in maniera visibile e leggibile in lingua italiana la denominazione, i dati del produttore e dell'importatore, il paese d'origine, i materiali impiegati e le istruzioni per l'uso. Soddisfazione per la Guardia di Finanza di Belluno, impegnata com'è su tutto il territorio provinciale con un'attenta attività di prevenzione e di contrasto a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e a garanzia di eque condizioni di concorrenza. Siamo in chiusura e dunque alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento di serata con Antenna 3. Arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Ben trovati al meteo. Scenario decisamente movimentato. Sabato 24 febbraio, tempo ancora spiccatamente instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto, condizioni di variabilità. Al mattino avremo ampie schiarite soleggiate. A seguire, possibili ancora delle precipitazioni da locali a sparse. Il limite della neve sarà intorno ai 900-1100 metri. Temperature stazionarie, minime tra 2 e 6 gradi. Massime tra 9 e 14 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui al mattino avremo un generale miglioramento. Ma tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche rovescio sparso, anche temporalesco. Temperature minime sui 4-9 gradi. Massime intorno agli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Si alterneranno anche in questo caso annuvolamenti schiarite e qualche rovescio, nevoso oltre i 1000 metri di quota. Temperature minime tra 1 e 2 gradi. Massime sui 9-10 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Termoidraulica Susin. I migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. I migliori impianti di riscaldamento.